Buon giovedì da Beirut, da cui da giorni osserviamo con preoccupazione quello che succede a Gaza in un conflitto che sta costando la vita un numero insensato di persone e che potrebbe riguardare anche il Libano. Partiamo con quella che potrebbe essere una buona notizia, almeno in potenza. Nella giornata di ieri, segnata dalla visita del presidente statunitense Biden a Tel Aviv, si è arrivati a un accordo per consentire agli aiuti umanitari di entrare a Gaza attraverso il valico di Rafah, che collega Gaza con l'Egitto. Israele ha accettato di consentire l'apertura del valico per la consegna del cibo, acqua e forniture mediche primarie, a condizione che l'assistenza umanitaria non venga intercettata da Hamas. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che Israele non ostoccherà la fornitura degli aiuti umanitari attraverso l'Egitto. Oggi sono in corso i lavori di riparazione delle strade danneggiate dai bombardamenti israeliani, domani si dovrebbe partire con le consegne. Ottima notizia, siamo davanti a una piccola svolta, ma le Nazioni Unite e altre agenzie umanitarie hanno affermato che gli aiuti sono nettamente inferiori a quanto necessario. Si parla infatti di far transitare 20 camion nella giornata di domani, ma la popolazione intrappolata a Gaza è composta da più di 2 milioni di persone ed è senza acqua, carburante provviste da quasi due settimane ormai. Martin Griffiths, il capo dell'ufficio ONU per l'aiuto umanitario, OCHA, ha dichiarato ieri al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che l'obiettivo minimo deve essere di 100 camioni al giorno di aiuti umanitari, ovvero il livello precedente a questa nuova escalation. Ricordiamo che Gaza dipende interamente o quasi da questo canale umanitario che è l'unico possibile. C'è anche una pessima notizia per quanto riguarda la diplomazia. Questa notte infatti il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si era riunito per discutere una proposta di risoluzione presentata dal Brasile che chiedeva un cessate il fuoco umanitario immediato per consentire alle agenzie delle Nazioni Unite e alle varie ONG partner internazionali di entrare a Gaza per portare aiuto ai civili. La risoluzione, a differenza di quella russa di due giorni fa, conteneva una condanna a ogni violenza e ostilità contro il civile e a ogni atto di terrorismo, condannando quindi anche l'attacco di Hamas del 7 di ottobre. Conteneva anche la richiesta di revoca dell'ordine di evacuazione del nord della striscia di Gaza e una richiesta di fornitura continua e garantita di beni e servizi essenziali ai civili, tra cui elettricità, acqua, carburante, cibo e forniture mediche, ai sensi quindi del diritto umanitario internazionale. La risoluzione ha avuto 12 voti a favore su 15, inclusi quelli di Cina e Francia, due dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, due astensioni, cioè Regno Unito e Russia, ma purtroppo ha ricevuto il veto da parte degli Stati Uniti che hanno quindi bloccato l'iniziativa. Il motivo, secondo gli Stati Uniti stessi, era l'assenza di un riferimento al diritto all'autodifesa di Israele. Insomma, un altro fallimento del diritto internazionale che purtroppo dobbiamo appuntare. Prendo prestito le parole del delegato brasiliano che ha commentato dicendo ancora una volta hanno prevalso omertà e inazione. A lungo termine questo non giova a nessuno. Intanto, secondo il ministro della difesa israeliano Benny Gantz, la guerra nel sud e se necessario anche nel nord potrebbe durare mesi e la ricostruzione anni. Ha poi aggiunto, lo riporta Times of Israel, il sud sarà un paradiso al 100%. Ma intanto oggi Gaza non è un paradiso e le migliaia di persone ammassate o in coda in uno dei pochissimi ospedali ancora funzionanti lo testimoniano e le 6.000 bombe gettate da Israele sulla striscia in 12 giorni sono più di quanti gli Stati Uniti ne abbiano usati in un anno in Afghanistan, giusto per dare un po' il senso delle proporzioni. A proposito dell'ospedale di Al-Hali, quello distrutto martedì notte, vi segnalo l'ottimo lavoro fatto dal Guardian per provare a ricostruire la dinamica della strage. Si chiama proprio mettere insieme quel che è successo. Lo trovate nella sua home page. Attenzione, se vi aspettate risposte indiscutibili e incontestabili non le troverete, ma devo dire è uno dei pezzi più corretti sulla stampa occidentale. Ma passiamo al Libano, dove oggi gli scambi di razzi e colpi di artiglieria sono stati molto duri, ma sempre entro quella che abbiamo definito grammatica comune di questo conflitto tra nord e sud di cui parliamo da giorni. In particolare i bombardamenti israeliani si sono concentrati questa mattina a Ras al-Nakur, a Labunè e intorno al villaggio di Al-Malshab, mentre poco dopo mezzanotte dei cacci israeliani hanno sorvolato il sud del Libano, in particolare la città di Saida, poco dopo mezzanotte appunto. Ce lo dice l'agenzia stampa libanese Ani. Hezbollah ha invece lanciato due razzi anticarro, i razzi russi Cornet, di cui a sud si va molto fieri, contro l'insediamento israeliano Kibbutz al-Manara. Ancora Israele ha dichiarato di aver colpito una cellula di Hezbollah nel sud del Libano utilizzando un drone armato. Questo a grandi linee. Ma mi voglio concentrare su altre due questioni. La prima ci riporta proprio a martedì sera, quando avevano cominciato a circolare voci di un ritiro della forza di interposizione delle Nazioni Unite, Unifil, dal confine. Non era vero. Anzi, il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, ha chiarito che siamo qui e non è cambiato nulla per quanto riguarda la nostra attività. Siamo operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Continuiamo il nostro dialogo con le parti per allentare la situazione e le nostre truppe monitorano la linea blu. Si tratta anche di una risposta al ministro della difesa tedesco Boris Pistorius, che questa mattina ha visitato Beirut e ha messo in guardia dal ritiro della missione. L'altra questione riguarda gli Stati Uniti. Durante il volo di ritorno da Israele, il presidente Biden ieri ha chiarito di non aver promesso a Netanyahu un intervento militare statunitense nel caso di una guerra con Hezbollah. Anzi, direi di più, secondo il Times of Israel, Biden ha esortato privatamente Israele a non lanciare una campagna militare contro Hezbollah. Gli Stati Uniti hanno quindi incoraggiato Israele a prestare attenzione nelle sue risposte militari. Nel mentre però una terza portaerei statunitense si è unita alle altre due già presenti nel Mediterraneo orientale. A scopo si dice di deterrenza, così dice Anthony Blinken, segretario di Stato. La Turchia ha protestato affermando che così facendo si ostacolano gli sforzi turchi per la pace. Ma il comando statunitense ha voluto precisare che le portaerei servono anche per un'eventuale evacuazione dei civili. Ecco, parlando di espatriati in Libano, oggi va riferito che l'ambasciata degli Stati Uniti ha esortato i suoi cittadini a pianificare la loro partenza il primo possibile, finché sono ancora disponibili opzioni commerciali. Attenzione, forse avrete letto sui social media, in particolare su Twitter, xOggi, che i palestinesi e Hezbollah hanno dato fuoco all'ambasciata americana con dentro cittadini americani. Non è vero nemmeno questo. Ieri durante le proteste ci sono stati dei roghi, tipicamente di copertoni, ma niente che abbia riguardato direttamente l'edificio. Anche Regno Unito e Australia intanto hanno consigliato ai loro cittadini di non recarsi in Libano ed eventualmente lasciare il paese se ritenuto necessario. Ma quindi? Siamo davvero più vicini a un allargamento della guerra in Libano? Non necessariamente. Israele continua a accumulare più forze sul suo fronte settentrionale, mentre gli scontri continuano a essere abbastanza intensi, con Hezbollah che ha lo scopo evidente di ostacolare la capacità israeliana di mobilitare tutto il suo potenziale per l'invasione di terra a Gaza. Secondo il quotidiano libanese Al-Nahar, le operazioni di Hezbollah contro Israele in solidarietà con Hamas rimangono però entro le tradizionali regole del gioco, senza risultare per ora in un'ulteriore espansione del potenziale conflitto. Tuttavia resta il dubbio che dopo la strage all'ospedale Al-Ali di Gaza queste regole possano saltare. Tuttavia, secondo Simone Haimè dell'Università Americana di Beirut, anche senza escalation l'economia libanese sarà danneggiata per anni dal conflitto in corso, a causa del prevedibile crodo del turismo e l'aumento dei prezzi della benzina e quindi dei costi per l'importazione in un paese che importa praticamente tutto quello che consuma. Chiudo con un extra che riguarda la libertà di informazione, il governo israeliano sta discutendo la chiusura di Al-Jazeera in Israele. Ce lo dice il quotidiano Yedot Adronot, il governo infatti sostiene che le trasmissioni di Al-Jazeera rappresentano un rischio per la sicurezza e incitano alla violenza. Se la richiesta verrà approvata, e lo sapremo domenica, gli uffici saranno chiusi, le attrezzature sequestrate e gli accrediti stampa revocati. Anche questo un segno abbastanza preoccupante. Noi per oggi ci fermiamo, ci risentiamo domani, venerdì, quando si attendono manifestazioni e mobilitazioni nei vari paesi del cosiddetto mondo arabo e probabilmente saremo ancora insieme a commentarle. Noi ci risentiamo comunque domani. Buona serata.